Giampiertolda! Genoveffa! Ok perfetto Salve a tutti e bella gente di Luke e benvenuti in questo nuovissimo contenuto multimediale Oggi sono con Dressi nella vanilla visto che avete spolliciato tutti quanti l'episodio del tour Siamo nel primissimo episodio Purtroppo sfortuna vuole che il programma non abbia registrato nulla E quindi praticamente dobbiamo ripartire da dove abbiamo interrotto quando stavamo registrando Va bene allora cominciamo L'obiettivo di oggi è quello di trovare dei diamanti Allora abbiamo già trovato un po' di cose 21 di ferro E 21 di ferro Ok Io ho trovato un altro po' di ferro Se magari non cado Ecco qua Perfetto Allora il bello di fare questi video è che ti diverti Il brutto è che non funziona mai nulla Facciamo una cosa Io faccio la fornace E te fai Il secchio Ok Sì ecco io già ho messo il cuoccio il ferro Stava vicino a dove abbiamo Sono morto Sono morto Porca Ok ragazzi sono ritornato con un secchio d'acqua Così almeno provo a fare l'MLG Mi sbaglio sempre perché il mio nome è simile Ok Allora facciamo così E poi Eh Allora speriamo che ci riesco perché veramente Ragà non c'ho voglia di ritornare veramente Due ore spesa di tornare Vai Dove ti trovi? Parca Ok ragazzi dopo due ore ce l'ho fatta Adesso devo scappare dagli zombie No 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 Devo scappare veramente Via 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 Andiamo qua Andiamo qua Ho trovato il diamante Ho trovato il diamante No 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 dove dove Qua qua No ho trovato No il diamante Il diamante Il diamante Il diamante Il diamante Vieni fio di p***a Vieni Vieni Forza Vieni 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 Che c'è Che c'è Ok ragazzi è stata durissima Adesso ho trovato anche del ferro Bellissimo Oh Meglio di così Non ce ne poteva andare Ho avuto un sacco di fortuna La sfortuna è stata ribagata Ok Io non ho capito dove sei Facciamo un taglio Così almeno Dressy arriva E vi risparmio l'ora di tempo Ok ragazzi Dressy è arrivato Dressy guarda qua Guarda qua No No Fermo Lo voglio prendere io Il mondo l'ho creato Io lo voglio prendere io Per favore Ti prego Ti prego Ok va bene Ok dammi piccone Dammi piccone Allora ragazzi La nostra prima gioia Il nostro primo diamante Qui Prendiamo il diamante Prendiamo il diamante Prendiamo Prendiamo il diamante Tanta No Applauso Un diamante Il diamante roba veramente tanta 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 roba ma qua siamo ricchi ma qua diventiamo ricchi al creeper dove sei finito scusa per le parolacce e ecco trovato l'inventario vuoi di fare avevo divuto ci avevo i diamanti ci avevo tu ok mi sono arrabbiato lo so l'ho riconosciuto che mi sono arrabbiato però comunque ho preso il diamante ho tutto fortunatamente ho ripreso tutto tutto l'inventario mi sono calmato mi sono fatto una camomilla perfetto allora resti saliamo saliamo su dai saliamo ho trovato altro ferro fa la fortuna oggi oggi la fortuna va a spanne prima viene e poi se ne va io vedo tutto che mi sembrano diamanti e non mi piace adesso io vedo tutto bagato il giro ragazzo vi giuro su chi volete non c'è l'x ray vedo tutto a che non sia giusto no era la connessione che fa schifo ok possiamo sfruttare facciamo il bag che usiamo l'x ray no no l'x ray e poi ci stanno due creeper pronti al combattimento ma distanze qui a te a me no sicuramente i miei vicini mi udiranno dopo questo i miei vicini mi udiranno no no non sono morto a io a via 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 sanno a seguire a te a me non mi pigliano di mira no ecco ecco ho parlato a no ci vogliamo due ok andiamo a ricercare altra roba altra roba no oggi mi sento fortunato un po oggi mi sento un po fortunato ci sono altri creeper sopra attento non riuscano altri zombie 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 diamanti diamanti c'è due cuori adesso non c'è più le pork shop no 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 non le ho finite le ho perse le ho perse ecco dressy che sconfigge tutti i mob grazie ad essi invece che lady bug sconfigge il male quel cartone marzo abbiamo dressy record sconfigge il male allora io avevo visto un diamante tutto l'hai preso si eccolo te lo do ok dammi così almeno ok ci possiamo fare le pale in diamanti e a noi non ci interessano ma dov'anno ma quanti mostri oggi mi sento veramente fortunato a parte tutto mi sento veramente fortunato c'è uno scheletro c'è uno scheletro mo mi ammazza e ogni arrabbio titano ma mangiano ma stala meglio no 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 hang dressy car calmo 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 io lo so che te hai visto a me che facevo gli scleri ma te non li puoi fa perché sei una persona pacifica ok quindi calmo ho trovato altro ferro Palmo Esco da server Ok Il mondo però non è pacifico Stai Normale Allora sono uscito Come facciamoci da sta situazione C'ho lo scheletro Che mi sta letteralmente Ok non c'è più C'è più Questo è il bello di server Minecraft Che fa tutto Non si blocca nulla Quando te chiudi Non si chiude nulla Che bello Eh no perché è despaunato Perché l'entità era troppo lontana Dal giocatore che era dentro Cioè io E quindi ci siamo salvati Che bello No via 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 Ok sto dormito E io sto un'altra volta via Ok Hai dormito? Sì Ok perfetto Sto venendo Sto venendo Sto venendo Sto venendo Dimmi che non muoio Dimmi che non muoio Muoio Certo il cuore Mezzo Ecco io sto venendo giù Mangio Mangio Ci sono un botto di mostri Gli a*****i sono un botto di mostri Io mangio Hai preso il mio inventario C'ho paura No non ho preso tutto l'inventario Perché sono scappato Che ci stanno troppi mostri Stavano urda Vedo l'inventario Vedo tutto l'inventario Non so però se mi basta Spazio che c'ho eh Mi te lo dico Mi sa che non mi basta Lo spazio Cerco di venire Eh io cerco di prendere Tutte le cose Comunque io so veramente Boomer Che non so manco Combatte Un'unica Crash O però comunque I diamanti Li abbiamo trovati La challenge L'abbiamo fatta Ok Via Perfetto ragazzi Se il video è durato poco Non me ne frega nulla Perché ci siamo dovuti Sviscerare Per questi due diamanti Che sto tenendo in mano Ora Faccio vedere Ok Eccoli qua Il nostro orgoglio Ma Tutti i video Devono finire Quindi Iscrivetevi Mettete like Attivate la campanellina E scrivete un commento Per farsi Sapere Se volete un altro episodio Io vi saluto Luke saluta Terzi vi saluta Ciao ragazzi Si va out Ciao 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 Fine di tutto Ok Allora L'inventario Dunque Deboomer Andiamo a mettere Le robe Sì 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 Sì